Massi, dai. Massi. Ciao Arturo. Sono Stella, la tua Fubre Friends ideale. Ciao. Scusa, come funziona questa cosa? Perché? Ti sei già annoiato? No, per capire. Perché è la prima volta che uso questa app, non è perché... Guarda Arturo, è molto semplice. Io, quando hai voglia, ci sono. Per parlare, discutere, per darti un consiglio o anche solo per fare delle cose insieme. Tipo? Non quelle cose lì, ovviamente. No, io mica intendevo quello, eh. No, io era per dire. Sto scherzando. Scusami, Stella. Sì? Sì. Ti dispiace se do un'occhiata? Fai pure. Giusto per capire come funziona, eh. Non è... Certo. No... No... Wow. Ma stai esaminando la tecnologia o il mio corpo? Beh, però impressionante. Sono contenta. Mi puoi provare per una settimana? Ah. Se ti trovi bene, possiamo continuare a frequentarci. Sì. Ma... Quindi... Ti posso chiamare quando voglio a qualsiasi orario della giornata? Sempre. Perché con Fuber Friends non sei mai solo. Ah. Ma è... Figo. Eh... Eh... Beh... Scusami un attimo, Stella. Resti qua, no? Te... Giusto... Arrivo! Eh... Un... Un attimo. Un attimo.